La bellissima e simpatica Jodie Foster, famosa attrice americana per eccellenza, riceverà al Festival di Cannes la famosa Palma d'Oro. La donna, produttrice e regista americana, sarà presente a Martedì 6 luglio 2021 al palco del Palà del Festival. È una vicenda questa buona per le stesse, sta vivendo un momento buono, nonché piacevole. Vi ricordo che il Festival di Cannes sarà da partire dal 6 luglio 2021 al 17 luglio 2021, tra un mese di tempo. E Jodie riceverà, ripeto, la Palma d'Oro alla carriera. Se la merita, punto interrogativo, sicuramente sì, perché è un'ottima attrice, un'ottima produttrice e un'ottima regista americana. Il video termina qua, iscrivetevi al canale Narratore Italiano, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate, datemi le vostre opinioni. Io di forse vi ricordo che ricordo se non ero proprio nella pellicola Il Silenzio degli Innocenti, se non vado errato. Nonostante gli anni, la donna è sempre bella, è sempre agnambia, è sempre affascinante. Complimenti a lei. Ciao a tutti, Ariandro, Narratore Italiano. Iscrivetevi al canale, una buona giornata a voi tutti. Ciao a tutti.